Se non è ancora fatta, poco ci manca. Il conto alla rovescia verso il ritorno tra i professionisti è già iniziato in Casa Biancorossa. La lungo piazzato Domenica dal Teramo e danni di Ancone e San Benedettese ha il sapore di un K.O. per le avversarie, ma l'esperienza della passata stagione induce ad essere cauti e a rimanere con i piedi a terra, senza fare voli pindarici. Il destino del diavolo è nelle proprie mani, ma bisogna continuare ad essere concentrati gara dopo gara, fino a quando la matematica non sarà dalla parte dei teramani. Domenica c'è da stare attenti alla stra-cittadina contro il San Nicolò e poi alle due trasferte di Recanati e Pesaro. La squadra di Calabrese è una delle sorprese della stagione e con la sconfitta di Isernia, dopo una serie positiva che durava da 11 partite, si è allontanata forse definitivamente dal sogno di un piazzamento nei play-off. I biancazzurri a caccia di punti per la matematica salvezza giocheranno senza gli squalificati Scipioni, Clementoni e Casalese. All'andata furono sconfitti 2-0 allo stadio adriatico di Pescara, ma domenica potrebbe essere un'altra gara, forse più equilibrata e combattuta. Questo dipenderà dai biancorossi, dalla capacità di mettere sotto gli avversari e rendergli subito la vita difficile. Cappellacci ha il solo Ciampi squalificato, recupera la Boragine e con Borrelli e Arcamone la rosa è al completo. Insomma, ci sono tutte le premesse affinché il cammino verso la Lega Pro continui ad essere in discesa. L'unica spina per la società resta ancora il caso stadio, che il presidente sollecita ripetutamente, ma ancora attende risposte e su questo che Campitelli sta meditando. L'arbitro di domenica sarà Campilungo di Lecce. Mattias Calabuig, punto di riferimento di questo Teramo per tutto il girone di andata. Poi, dopo quella squalifica contro la Civitanovese, da titolare ti sei ritornato in panchina. Questo ci può stare, ma tu come stai vivendo questo momento personale, non particolarmente felicissimo per te? Insomma, da titolare ora a Panchinaro. Sì, al di là di Panchinaro, comunque, ho visto che ci ha alternato nelle partite successive alla squalifica. Sì, comunque, dai, con serenità ci sta nel calcio delle scelte e vanno rispettate. Il massimo impegno da parte tua per riconquistarti quella maglia da titolare, per dare comunque un contributo importante per questo sprint finale, no? No, assolutamente. Al di là della maglia, sempre il massimo impegno e tutto, perché penso che vanno al di là degli impegni, in questo caso, degli impegni che uno ci possa mettere delle scelte. Sempre, sicuramente, sempre al massimo e cercando di dare il massimo contributo per la squadra. Manca soltanto la matematica promozione? Manca, no. A parte la matematica manca. Manca parecchio perché comunque ci sono 24 punti in gioco, e non è detto che le altre non possano vincere tutte le otto partite, quindi non possiamo calare per niente. Affrontate un San Nicolò, tra l'altro, che giocherà domenica motivatissimo. Sicuramente, sicuramente motivato, perché ancora ci credono, che comunque, al di là delle motivazioni, penso che giocano tranquilli, tranquilli perché affrontano al Teramo, perché non hanno niente da perdere, e che queste partite sono molto difficili da affrontare. Sarà una gara diversa dall'andata, tu all'andata hai giocato, il Teramo vinse 2-0, però questa partita fu disputata all'Adriatico di Pescara. Sì, sicuramente giocheremo in un campo che siamo abituati a entrambi le squadre, e questo, sì, sicuramente sarà, pure da questo punto di vista, molto equilibrato. Tu sei bene fisicamente? Un messaggio lo vuoi lanciare a Cappellacci? No, il mister lo sa. Ringraziando Dio, sto bene fisicamente, il mister lo sa. Poi, tra l'altro, domenica scorsa ho giocato, nessun messaggio, come dicevo prima. Ci sono delle scelte, vanno rispettate.